Lei è la mattina che fa, si vede che è più riposata, no? La mattina lei fa davvero i suoi pasti che poi durano anche tre ore senza mangiare, così invece si rieca più forte. Eh, esatto, esatto. Poi invece tende ad assopirsi. Sì, dopo forza. Ecco, stai attento, passa di senza cadere il basso. Allora, bravo. C'è messo tutti a lungo? Chi ha spesso la luce? Guarda che l'idea ancora! Claudia! È l'idea che fa così? Sì, sì. Donna, ha spesso la luce. Donna, ha spesso la luce. Ecco. Ah, è per l'alice che hai spesso la luce? Sì. Ah, per fare la risalata. Anna. No.